salve a tutti sono micweb oggi di nuovo con un tutorial di wordpress come notate qui in basso wordpress 4.4.1 l'ho aggiornato qualche settimana fa sono all'ultima versione e continuiamo con la nostra carrellata di plugin oggi vi presento un plugin molto interessante per coloro che sono un po pigri nel scrivere articoli il plugin è totalmente gratuito c'è anche una versione pro ma la versione gratuita fa il suo lavoro ve lo spiego il plugin in questione di oggi è vpematico cosa fa questo vpematico mi scrive gli articoli in automatico copiando da i fits rs fit vi faccio vedere un esempio vogliamo creare una nuova campagna aggiungo una nuova campagna scrivo prendo le notizie dal ansa ad esempio solo un test vado sulla pagina dell'ansa vado a cercarmi i rs fit e ad esempio me mi interessa il calcio c'è da sopra col tasto di destra non lo clicco mi copio l'indirizzo ritorno sulla mia dashboard sul sul plugin bpmatic qui come vedete fits for this campaign ci metto l'indirizzo lo clicco qui in parte lo verifico a posto mi dice che il link che ho che ho copiato è un link per i fits qui posso scrivere posso determinare un cron job posso determinare quanto o quante volte questa campagna deve essere eseguita in questo modo ogni tre ore tutti i giorni ogni mese ogni giorno alle tre ore come un po eccessivo posso fare anche una volta ogni sette ore ogni una volta ogni sette ore verrà controllato ci sono nuovi articoli qui posso cambiare anche l'articolo l'autore dell'articolo a questo punto ho salvato tutto pubblico e vado a far partire la nostra campagna come vedete la nostra campagna mi dice la campagna è stata eseguita nell'arco di un secondo sono stati creati cinque post andiamo a vedere se è vero andiamo vediamo su articoli eccolo qui calcio brescia cesena 21 guidolino allenatore spanzi paloschi non si muove vado a vedere effettivamente sul sul mio sito vado sulla pagina dei miei articoli e vi faccio vedere come viene visualizzato come vedete qui viene visualizzato solo una piccola informazione qui altri fits che io ho aggiunto come vedete ho aggiunto un sito da un sito da google praticamente io non scrivo nessun articolo ho questo plugin che mi pubblica come vedete una marea di articoli ad esempio qui con le foto addirittura con il video dobbiamo andare a personalizzare un attimo la bacheca torniamo sulla nostra bacheca andiamo ancora a personalizzare la campagna possiamo vado qui di nuovo sulla campagna della lanza posso modificare come deve essere l'articolo posso mettere ad esempio così in modo che mi metta anche le immagini infatti posso aggiungere titolo immagine l'autore e link dell'autore la descrizione logo posso personalizzare il template di come verrà questa campagna in poche parole facendo questo avrò un articolo veramente con le immagini con l'autore originale che è una cosa importante quando usiamo questo plugin bisogna sapere copyright posso non posso se noi aggiungiamo sempre la fonte ufficiale non è nessun problema possiamo diciamo copiare articoli di altri blog bene per questo tutorial è tutto semplice plugin si chiama bp ematico come vedete mi ha postato tutti gli articoli automaticamente per blog un po pigri o ad esempio all'inizio per in modo che google indicizi meglio il nostro blog è anche importante pubblicare molto spesso questo sarà un altro tema a parte vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo al prossimo tutorial ciao 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 Grazie.